grande zio prego io, sono l'amico di Libra un bel bozzoletto maschio bello imprimato grande zio bello non è detto, guarda che tornano tornano, tornano, tornano ecco un altro, è un germano un altro germano no, 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 è un germano sta là on, no, 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 no DA 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 che dici? non torna a niente zio? no la nota non è detto grazie per la sua A sinistra ce ne sono altre? Il 2? Ti chiamo il 2? Sicuro? Fai tu? Quattro 2 Gasca Le spettacolete a due casca C'è il 4, 2 un fianco c'è un sacco lo vedi? si si stai subito in puntamento e questo parte subito carica 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 si ci penso io anzi ci pensiamo dopo sono morti secondo te che scadono questa parte dell'inistrata si ecco stai subito? ah per bellazza è un'espeito 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 una un'espeito Grazie a tutti